Buonasera e bentrovati con l'entrata in vigore dell'obbligo del Green Pass per tutti i lavoratori sia nel settore pubblico che di quello privato iniziano ad emergere alcune criticità è quello che cercheremo di capire e di approfondire nell'odierna puntata problematiche che forse non sono state considerate nel modo giusto oltre alle manifestazioni e gli scioperi a cui stiamo assistendo quasi quotidianamente noi cercheremo di analizzare e di capire invece quelle che sono le criticità o le problematiche all'interno di varie attività e ne parliamo ovviamente con i professionisti all'interno dell'odierna puntata di terzo millennio. Diamo il bentornato al costruttore Marco Matteoni Buonasera e bentornato. Buonasera a voi. Diamo il bentornato all'avvocato Marco Pica Buonasera, l'uomo dei miracoli dell'Inps potremmo dire Diamo il bentornato al dottor Alessandro Circiofolo del gruppo ABC Impresa Buonasera a tutti. Buonasera Andrea. E diamo il bentornato a Gian Paolo Cosi imprenditore di Cucine. Allora Cosi inizierei subito da lei perché cartiere, mobilifici, produttori di ceramiche, aziende chimiche l'elenco è molto 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 lungo. Ci sono una serie di ritardi e ora c'è anche il discorso del Green Pass obbligatorio e poi c'è questa enorme preoccupazione dell'aumento del caro dell'energia che sembra che stia lievitando in modo assolutamente importante Allora che rischi ci sono? Come sta vivendo il suo settore in questo momento tutte queste incertezze? Allora diciamo che chi ha avuto la lungimiranza di approvvigionare almeno le aziende con cui lavoriamo noi che sono quattro, una più importante dell'altra approvvigionare quello che sono stati i materiali ha fatto sì che le consegne sono state abbastanza puntuali massimo 30 giorni di ritardo perciò dai 30 canonici siamo passati ai 60 ma quello che è il problema diciamo che adesso ci sta un pochino attanagliante è quello proprio dei ricambi cioè noi possiamo portare una cucina c'è un problema magari nato durante il trasporto può essere magari un vizio di fabbrica noi che siamo molto attenti nel rapporto poste vendita quello è l'anello che ci sta dando qualche problema perché nel ritardo chiaramente poi c'è lo scontento dei clienti e questo non lo vogliamo però ringraziando Dio le aziende che hanno quelle con cui, ripeto, come lavoriamo noi si sono strutturate si, con l'elettrodomestico pure magari manca intanto qualcosa però stanno abbastanza allineate a quello che sono i tempi ma sono i tempi a venire che ci preoccupano l'anno nuovo i dipendenti per esempio i collaboratori che svolgono attività a domicilio voi poi lavorate tanto cioè vendete un prodotto e poi lo andate a montare a domicilio in che modo vengono strutturati? hanno bisogno di green pass? hanno paura perché entrano in un ambiente domestico l'ambiente domestico in qualche modo può essere tra virgolette pericoloso oppure avete trovato delle soluzioni insomma diciamo che la categoria dei montatori sono abbastanza diciamo coraggiosi sotto questo aspetto perché non abbiamo l'obbligo di chiedere al cliente nel momento appunto che si entra in casa se ha il green pass o meno ma siamo noi che dobbiamo garantire questo qua e questo qua è importante io personalmente ho avuto un problema interno ho risolto subito con i tamponi ogni 48 ore e questo ha fatto sì ma di lei o li pagano? io l'ho pagato io ah ok non posso fermare il lavoro dobbiamo continuare quindi lei è uno di quegli imprenditori virtuosi ovviamente beh beh un'autocolle che non potevo dalla mattina alla sera non posso andare a fare le consegne diciamo che mi sono preoccupato di questo e basta tutte queste manifestazioni come le vede i cosi? abbiamo visto delle manifestazioni molto singolari allora cerchiamo di capire una cosa mettiamo un punto ben preciso allora ognuno è libero di fare quello che gli pare e questo siamo in democrazia quindi se vi volete vaccinatevi se non volete non lo fate massima libertà però una cosa di una cosa io sono assolutamente certo il nostro paese non si può permettere come invece sta avvenendo proprio in questi giorni in Russia di richiudere questa è una cosa che non ci possiamo assolutamente permettere e quindi non lo so come la vede lei Matteoni questa situazione sul Green Pass e soprattutto ha complicato quello che è il suo lavoro? ma dal punto di vista cantieristico diciamo che si ha un po' rallentato e rallentato specialmente i primi giorni dopodiché se vai al ristorante che ti conosce non ti chiede niente a nessuno se invece non ti conoscono ti chiedono il Green Pass il problema fondamentale è l'eterna diatribata dove finisce la tua libertà e dove inizia la mia perché c'è gente giustamente che non vuole fare il vaccino per questioni sue è libertà però questo comporta che tutta l'economia sta subendo dei rallentamenti però il Green Pass quindi secondo lei è uno strumento fatto bene non fatto bene perché diciamo le cose un po' come stanno cercando di fare una cronaca giornalistica è assolutamente funzionale che è quello che dovrebbero fare tanti miei colleghi invece di fare politica invece di sparare cazzate scusate il francesismo ma non potevo non dirlo e cioè in qualche modo l'Italia fortunatamente sta andando bene la Russia sta richiudendo l'Inghilterra sta in una situazione molto difficile cioè noi siamo il paese il Green Pass forse non è uno strumento perfetto forse è uno strumento sbagliato non spetta a me perché non faccio il medico e neanche faccio il truttologo come tanti altri però è un'alternativa cioè questo ci sta portando a uscire fuori e siamo i più virtuosi in Europa questo possiamo dirlo questo indubbiamente però dipende che cosa intendiamo noi per ripresa economica perché se la ripresa non ci moriamo di fame la ripresa economica la ripresa economica sì il rimbalzo del 19% benissimo però si sta sempre più ampliando la frattura tipo terremoto tra chi ha lo stipendio fisso e chi investe i propri soldi oggi come oggi lei sa meglio di me nel mio settore le costruzioni se la casa non l'hai finita e non l'hai parzialmente arredata neanche ti chiedono il prezzo vanno via allora questo comporta quale ripresa c'è quale ripresa c'è stata c'è stata la ripresa probabilmente delle persone che stanno affogando l'avvocato con le cartelle sattoriali grazie a Dio è bravissimo però quanta gente oggi si trova costretta a dover mollare tutto quello che ha perché non può pagare certo è una ripresa di carta però non mi hai risposto la domanda era il Green Pass è utile in questo momento storico a portare avanti l'Italia però per quanto può durare soprattutto perché nel tempo deve diventare una discriminazione per ora dura fino al 30-12 perché lo stato di emergenza è stato procrastinato fino al 30-12 poi se lo portano avanti nuovamente questo il problema non ci illudiamo che questa ripresa con o senza Green Pass io sono favorevole al Green Pass diciamo le cose come stanno è una ripresa di carta ma come mi sembra un termine perché le finisco subito sì è una carta in mano quindi sta arrivando sta arrivando lo tsunami cinese sì che la più grande società di costruzioni sta fallendo e verrà giù tutto come Lehman Brothers quindi covid nuovo a Lehman Brothers la ripresa Matteoni mi ha fatto venire la depressione io dico con grande sincerità un'altra domanda invece gli operai che non si sono vaccinati sono molti com'è la situazione sui cantieri poi dopo si informa Circiofalo per cortesia Circiofalo si metta qua per favore prego si metta là prego vada vada per cortesia sì vada dato che fa le domande al posto mio si metta là io mi metto qua la mitica a livello di operai con tutti i ritardi che abbiamo accumulato in questo periodo ci assumiamo l'incarico di fare i tamponi dove serve li paghiamo noi sì ma sono tanti numericamente beh soprattutto quelli dell'est che non non intendono sottostare a nulla perché vengono in Italia al paese di Bengodi e qualsiasi cosa che lei gli impone in Italia ci sono alcuni mi perdoni che hanno anche tra virgolette dei vaccini differenti che da noi tipo lo Sputnik o altri che da noi non vengono assolutamente visti da un punto di vista medico questo è abbastanza singolare noi l'unica alternativa che abbiamo di fronte al discorso dei vaccini non omologati copriamo le spese dei green pass dei tamponi di tutto per farli poter lavorare perché oggi come oggi lei è un imprenditore se noi ci mettiamo a fare i difficili che non paghiamo i tamponi dove andiamo? anche perché già operai se ne trovano pochi i pochi che ci stanno è una manodopera di infimo ordine bravo perché voglio dire questo è il problema che ho quotidiano io come dicevo prima ho risolto pagandolo perché mi sembrava un autocolle clamoroso quello di prendere e bloccare il lavoro dalla mattina non entrare e non andare fatto il tampone ho preso un pacchetto i lavori questo tipo di lavori gli italiani non li vogliono più fare ma gli italiani sono allineati al vaccino perciò diciamo che i nostri proprio come diceva lui quelli dell'est sono un paio bravi pure però che chiaramente hanno il loro il loro pensiero rispettiamolo però io al di là di questo io mi sono trovato davanti proprio a una situazione diciamoci che facciamo nulla perché lui è andato perché non c'è il tampone e lui è andato a casa De Corsa ritorna fate sto tampone a proposito di tampone allora abbiamo parlato in modo anche molto diciamo lusinghiero nei suoi confronti avvocato Pica invece diciamo in ambito legale come stanno le cose un avvocato deve mostrare il green pass non è obbligatorio a mostrarlo per accedere negli uffici giudiziari no attualmente ancora no stanno predisponendo delle strutture ma non so ancora cosa potranno servire per il green pass non credo perché prevedere una struttura che controlli il green pass per gli avvocati che devono andare alle udienze magari con due udienze a distanza di 10 minuti l'una dall'altra devono essere particolarmente veloci attualmente non chiedono nulla c'è il controllo della temperatura quindi al solito controllo green pass a macchia d'olio perché in alcune zone lo fanno in alcune zone non lo fanno vi posso assicurare che l'ufficio notifiche del tribunale secondo me è più affollato di un concerto rock addirittura ci saranno adesso un po' di meno perché con il telematico le notifiche le fanno telematicamente quindi la cosa è diminuita ma vi posso assicurare che è molto affollato ufficio esecuzione ufficio notifiche e lì non c'è nessun controllo quindi parlavamo d'altra puntata con il parco dell'euro dove chiedono il green pass nel tribunale gli avvocati sembrano queste sono le follie italiche invece negli studi professionali c'è l'obbligo del certificato verde chi lo controlla? l'avvocato stesso? si può controllarlo la sorarella chi lo controlla? si può controllarlo sia l'avvocato che anche un'altra persona che viene identificata come il controllo ad esempio delle sigarette chi fuma dentro gli uffici c'è una persona che controlla e sanziona chi fuma dentro gli uffici stessa cosa con il green pass identifichiamo una persona che controlla quella persona ha il compito di controllare coloro che hanno o meno il green pass ma volevo sottolineare una cosa prego tanti studi legali sono casa studio quindi l'avvocato può fare lo studio legale all'interno della casa su una stanza libra che adibisce a studio legale quindi quello che viene per assurdo considerato è il controllo all'interno delle proprie abitazioni del green pass come se noi facciamo entrare un amico in casa nostra e siamo obbligati a controllare il green pass quindi è una cosa assurda per gli studi legali stavamo parlando prima con lei questa è una cosa che interessa tutto interesserà sicuramente tantissimi amici a casa le cartelle esattoriali allora le cartelle esattoriali sono ripartite ufficialmente sì confermo ahimè ma non sono partite le cartelle è arrivata una già una già arrivata chi è arrivata si stanno sfogando particolarmente con le cosiddette intimazioni di pagamento che mettono tanta ansia al cittadino perché ci sono i famosi cinque giorni per pagare tante volte bollettini da milioni d'euro pagate dentro cinque giorni a lei sono arrivati Matteoni lei con questa faccia le cartelle le rimanda al mittente che altro può fare avvocato io mi scuso con lei ma io ho messo il domicilio e la residenza all'estero arrivano arrivano non me lo fregate meno anche perché detto tra me lei se noi incominciamo a stare appresso a tutto e io papà di 58 anni devo lasciare casa a mio figlio per divertirsi con la fidanzata perché se esce magari lo confiono le botte e a lei la rovinano no pago il giusto è un modo di difendersi però non è detto pago il giusto però non è anche corretto che il commissariato di via Cassia mi dica non ricordatevi che la notte qualsiasi cosa che succede noi ci muoviamo la mattina dopo questo non lo do la cartella è meno pericolosa però vabbè la cartella non ti picchia ma non è tanto come se io parlo del prosciutto e lei mi dice c'è il pane se io vado al centro storico a una macchina ibrida pago la multa se c'è l'elettrica che inquina più di una macchina normale non pago queste sottigliezze lei capisce che al cittadino lo intontiscono e c'è gente che poi si vede arrivare cartelle sottoriali da centinaia di migliaia di euro accumulate nel tempo perché magari non manco ci aveva fatto caso non è perché la prossima volta pica mi viene col mantello così la definiamo super pica contro le aggezioni delle entrate prego dottor che sta a fare si rimette al posto io mi metto al posto posso non risponderle ma guarda tu allora il mio pensiero sul green pass è assolutamente sposo quello di Mattioli cioè nel senso io sono assolutamente d'accordo non sono d'accordo sul discorso di tamponi perché io credo che sia folle farli pagare alle aziende lo Stato come si accolla il reddito di cittadinanza per tutti quei cittadini molti ricordiamolo giovanissimi che già hanno perso le speranze di lavorare ma dovremmo fare una puntata solo per questo credo deve accollarsi anche la responsabilità di una ripartenza soprattutto di tanti settori colpiti come le costruzioni come il settore delle discoteche come tantissimi altri la ristorazione che se un'azienda deve traslare il pensiero del dipendente per farlo vaccinare per forza chiaramente fa una forzatura e non siamo più in democrazia quindi giusto il green pass ma altrettanto giusto che loro prendano in considerazione quindi lanciamo questo appello al governo che riveda questa moratoria perché è assolutamente ingiusto puoi ripetere è giusto il green pass però è giusto anche lei mi sta diventando democristiano è il dottor Sattori che mi ha portato su quello che salutiamo allora invece se un dipendente non è in possesso di green pass è una cosa che può succedere sta succedendo oggi viene sospeso questo lo sappiamo è la legge dice questo poi voi potete essere d'accordo senza stipendio ma chi lo sostituisce se è una figura indispensabile in teoria lo deve sostituire io ho un problema con una delle nostre segretarie di gestione e sto imparando a fare anche segretaria di gestione purtroppo la paura come ha detto anche l'avvocato che poi viene trasmessa al cittadino e poi al lavoratore è estremamente estremamente elevata e io credo che sicuramente ecco non posso dire che io non sono favorevole perché tutti gli strumenti validi per combattere il virus vanno utilizzati e il vaccino in termini numerici è assolutamente valido quindi non possiamo dire non vaccinati il Green Pass è una conseguenza ovviamente dottore del vaccino e quindi lo devono fare tante persone scelti che hanno fatto manifestazioni in rivolta in molti casi poi si sono poi scusati soprattutto sui social perché hanno avuto parenti che si sono ammalati perché il virus esiste ed è aggressivo quindi vacciniamoci ma prendiamo in carico soprattutto le esigenze delle imprese perché senza di loro senza le persone che sono qui oggi che danno lavoro a tanti dipendenti soprattutto i nostri imprenditori macro cioè non esiste che lui deve pagare i tamponi per i dipendenti perché però lo fa mi perdoni lo fa perché la legge lo fa ma è una cosa però mi perdoni questa cosa chi li paga secondo me dal palazzo dovrebbero dare delle indicazioni ben precise si fa così o si fa così potrebbe essere più funzionale d'altro canto poi come ci ho detto prima cosa un imprenditore se poi si trova in una situazione di devo pagare due tamponi mi costano 300 euro al mese sarà qualche straordinario trovo tutta una soluzione magari faccia lavorare magari fanno qualche ora in più guarda si è creato un clima non volendo anche da parte sua di come posso dire di stima di gratitudine per quello che ho fatto perché sono emarginati io c'avevo segretari che l'aspettavano al Varco perciò diciamo che questa situazione è imbarazzante io ho trovato giusto farlo ma io la penso come lui però d'altronde era il punto cardine del punto in bianco ecco se no gli si blocca il lavoro ho affrontato gli ho detto questi li pago io poi lui era pure anche d'accordo nel fare qualche straordinario e pagarseli da solo perché la dignità quindi la giusta mediazione dice tu gli hai un incontro e gli hai un incontro su un'altra cosa sì sì assolutamente potrebbe essere una soluzione questa Matteoni cioè nel senso che ne so lavorano un'ora in più o rinunciano a una virgolina però li pagate voi gli imprenditori ma guarda la cosa importante da dire è questa che non c'è un'attività dove non ci siano gli operari specializzati non c'è più cioè non andiamo a pensare che il cantiere tutti fanno tutto no perché ci sono specializzazioni ben specifiche che vanno quindi non si può sostituire dalla mattina alla sera un operaio che non ha il green pass quindi noi ho torto collo con il discorso che stanno qualche minuto in più noi siamo costretti a pagare per farli entrare l'unico settore dove c'è l'intercambiabilità è il calcio perché ti compri due terzini o gioca uno o gioca l'altro però voglio dire a livello di qualsiasi attività lavorativa un cuoco non può essere sostituito dalla mattina alla sera beh certo un piastrellista non può essere sostituito dalla mattina alla sera da uno che non sai come lavora quindi siamo costretti io sposo la sua teoria ma siamo costretti a dire ecco fatti sto tampone ma vieni a lavorare cioè non è giusto è quasi un'estorsione da parte dell'imprenditore nei confronti dei dipendenti cioè già siamo in tutte le attività che abbiamo sotto scacco del dipendente sotto scacco in molti casi dei sindacati se ne vanno i dipendenti non ti firmano la tombale dopo subito dopo ti arriva la vertenza quindi alla fine come fai sbagli però la cosa importante è quella di dire ma non c'ho il lavoro come devo fare allora c'è il reddito allora c'è il reddito d'emergenza tutto questo è corretto in fase di pandemia che purtroppo ancora c'è ma io spero e sono d'accordo con la Lega per levare questo obbligo sono fine le elezioni ci riciofolate anche perse quindi adesso per cortesia non è che però io sposo questa teoria io sposo questa teoria perché non è giusto veramente continuare a regalare soldi a persone che in alcuni casi non hanno voglia di fare nulla perfetto e levarli a imprenditori che si alzano alle 6 del mattino perché dovremmo andare io e lei spero che il signor Mattioli ci inviterà al cantiere così capiamo cosa vuol dire andare al cantiere la mattina perché loro ci vanno per primi insieme ai loro dipendenti Mattioli è un attore Matteoni comunque non è Matteoni glielo dico semplicemente ma è abbastanza similare allora Pica ci racconti un po' stanno arrivando queste ingiunzioni a 5 giorni facciamo un esempio arriva un'ingiunzione a me 5 giorni ok io mi trovo un'ittimazione mi trovo con questa cosa dico ho appena iniziato a lavorare che rottura che discatole ed è una cosa abbastanza stressante come deve fare un cittadino perché poi le tempistiche per potersi difendere perché poi ci sono delle cartelle che sono anche giuste hai fatto delle cose sbagliate vabbè ci sono una serie di cartelle spesso e volentieri e questa è una cosa che mi crea molto imbarazzo ma anche molto fastidio quando nell'era della digitalizzazione dove verranno spesi 30 miliardi di euro del PNRR ad oggi mi può arrivare una cartella che non mi compete perché perché non c'è un'interconnessione tra diciamo tra gli vari istituti tra gli antiimpositori dell'agente è successo a me personalmente è arrivata una cartella su una cosa non era di mia competenza abbiamo risolta quello sì l'abbiamo risolta però per quale motivo ci succede questo c'è poca coordinazione dagli antiimpositori e l'agenzia delle entrate di discussione per quanto riguarda tornando al discorso delle intimazioni vi spiego il perché stanno arrivando queste intimazioni anche l'iter avvocato l'iter ci spiega anche l'iter innanzitutto dobbiamo capire che è fondamentale perché i furbetti dell'agenzia delle entrate di discussione stanno facendo queste intimazioni per recuperare il termine entro il quale porre in esecuzione la cartella esattoriale ossia la cartella esattoriale ha una capacità esecutiva di un anno quindi ha una varietà esecutiva di un anno per non farlo andare in prescrizione no questa è una decadenza più con la prescrizione poi partiamo anche al concetto di prescrizione se la cartella è stata notificata nel 2015 non può essere messa in esecuzione nel 2021 perché è decorso un anno della cartella quindi che gli danno questa possibilità di fare un'intimazione di pagamento per recuperare questo termine preciso che per noi poveri esseri umani umili una volta che è decato un termine difficilmente abbiamo uno strumento per riprendere quel termine l'agenzia è entrata in discussione invece ha tutti questi strumenti mi fermi un attimo questo è un momento importante mi sta dicendo che è una lotta impari assolutamente cioè è una sfida tra Davide e Golia sì cioè questo mi sta dicendo questo caso vince Golia vabbè cose strane il problema è questo quindi gli danno questo strumento per fare l'esecuzione quindi appena arriva l'intimazione di pagamento non è tanto il termine per l'opposizione che conta quanto quei fatidici cinque giorni che indicano nell'intimazione dei corsi quali loro possono fare le esecuzioni pignonamenti ipoteche fermi e quant'altro allora prima di salutare adesso sarà da casa ma anche qui in studio sicuramente siete tutti attentissimi improvvisamente io sono depresso dopo aver sentito l'avvocato se l'è depresso ci dicono ci esistono le medicine o gli psicoterapeuti ma non è questo il programma ci spiega in due minuti quello che può fare un cittadino in questa lotta impari per difendersi assolutamente salutiamo così dicendo di rivolgersi immediatamente ad uno studio legale tributarista quindi organizzato e strutturato per opposizioni a cartelle esattoriali che è una materia un po' e procedere con l'opposizione quando ovviamente è possibile fare opposizione o con le strumentazioni che ti danno per farti tranquillizzare un po' su queste situazioni di disagio che sono eventualmente la rottamazione quadre che deve ancora uscire chiedo quando uscirà questa rottamazione quadre o con la raterizzazione bisogna tamponare subito il problema perché un pignonamento su un conto corrente anche se opposto produce comunque il blocco del conto corrente e crea un danno importante ad una società che non può utilizzare quel conto corrente quindi il mio consiglio è rivolgersi immediatamente ad una struttura legale organizzata su questa materia al fine di procedere alla opposizione raterizzazione rottamazione di quella cartella esattoriale ove possibile ovviamente o utilizzare altri strumenti che verranno consigliati dallo studio legale per far fronte a quell'intimazione da lì a poco arriverà una procedura esecutiva che potrà creare problemi al privato o alla società però bisogna tamponare subito potrebbe essere anche uno male interpretato non parlare di tamponi ma parli di 5 giorni un'ultima domanda velocissima allora come mai io vado all'Inps io sono un cittadino dall'Inps che chiedo l'Inps mi fa un accertamento chiedo dei documenti che mi spettano dei diritto quindi sono miei me li ha mandati l'Inps cioè tu l'Inps mi mandi a me dei documenti io vengo da te e tu mi dici ma i documenti ma me li hai mandati tu oppure per prendere un appuntamento ci vuole un anno cioè io come mi difendo totale disorganizzazione l'unica difesa in casi estremi molto estremi è la denuncia per omissione di dati d'ufficio perché comunque la mancata consegna di documenti dovuti determinano omissione di dati d'ufficio bene poi approfondiremo perché insomma la cosa è abbastanza singolare non ce l'abbiamo con i dipendenti dell'Inps non ce l'abbiamo con nessuno cerchiamo solo di capire come mangia questa mala comunicazione che crea poi dei grossi disagi evidenti al cittadino ringrazio ovviamente gli ospiti dell'odierna puntata allora ringrazio il costruttore Marco Matteoni l'aspetto presto sempre bello grintoso lei ci ha dato belle notizie oggi è diventato depresso prego se è contento si metta lì ringrazio l'avvocato Marco Pica grazie a voi buona sera ringrazio a Polla Iato sul Trespolo il dottor Alessandro grazie Andrea grazie a tutti bellissima questa postazione di comando e ringrazio l'imprenditore di cucina Gianpaolo Cosi grazie l'appuntamento con Tarso Milagno torna immancabilmente domani torni al posto suo rimanete con noi buona serata grazie a tutti